Rende è il primo comune in Calabria, uno dei pochi nel meridione, che avvia il progetto nazionale Una scelta in comune. I cittadini hanno la possibilità di esprimere la propria volontà circa la donazione degli organi quando si recano all'ufficio anagrafe per il rinnovo o il rilascio della carta d'identità. La decisione sarà trasmessa in tempo reale al sistema informativo tra pianti, la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. Si tratta davvero di dare la possibilità a tutti i cittadini di un loro diritto, che diventa quasi un diritto indisponibile, ma non è solo questo l'aspetto che mi interessa in questo momento sottolineare. Interveniamo su un tema di grande criticità. Penso alle lunghe liste di attesa di chi aspetta un trapianto da anni.